Diceno ma l'ha mandato sempre Chiura e chiura, non chiura e non chiura Perché l'ha mandato? Fermo l'essendo che ce lo potremmo pure permettere di lamentarci Visto sulle riede Noi merda Di merdono, di cacchissima Che stiamo vivendo Però abbiamo delle perplessità Si possono avere delle perplessità? Grazie mille Allora per pensare su questa cosa qua La seconda ondata del virus Era ampiamente prevista Cioè quando è finita il lockdown La prima serie diciamo Del lockdown a maggio Ma sono passata maggio, seconda metà Giugno, pugno, agosto Quattro mesi e mezzo Quattro mesi e mezzo Uno teniva tutto il tempo per riorganizzare E per fortificare la sanità La sanità via fuori La sanità pure quella Ma soprattutto la sanità La salute diciamo pubblica Invece mi rendo conto che uno stava impegnato Nelle elezioni La candidatura Non siamo Uno bene Mi rendo conto che è un po' plena No? La problematica famosa Della sezionella Che termina Se conclude Non siamo Però la sanità pure E' importante Invece qui vado Scudata propria Scudata Vedi te vado Mamma mia La sanità Ma fai una cosa Dovevamo fare una cosa Scusate C'è sfuggito in mente Sai quando Tu piensi mille cose C'è fatta la sanità No Guardate E cosa c'ha fatto? C'ha macerato C'ha miscudato C'ha miscudato Infatti Non funziona Non funziona Che se Era forte C'è una cosa La sanità Non c'era bisogno Di chiudere niente Invece Tipo L'asla Tu chiami Per un tampone Perché O sei dei sintomi O sei stato A contatto con positivo Quando chiami L'orfanario C'ha fatto un tampone C'ha chiamato a noi Scusate Scusate È da poco Che abbiamo aperto Quindi Non ero Preparato Sì Guardate Veniamo 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 E infatti Quando arrivano Che a te C'è passato C'è Asle Perché Loro dicono Aspetta Tanto se leva Asle Aspetta Se leva Perché Loro arrivano Che ha già Se lo vado Dicono Guardate Tenuto Il coronavirus E' finito E' serio Cos'è niente Se non c'è Panno Cos'è niente Non funziona Perché Poi Uno Quando c'è A me Se potete Possono Andare Nell'istituto Nel centro privato Allo centro privato Dove fanno immediatamente Tutamuno Ti mettono Quasi Non La semente Tu sai Poi Aspetta Scusi Un attimo Fammi Ricciate Un attimo Ecco Non funziona Non funziona Così Mostrate Scrivete Pure Asintomatici Nella lista Della prescrizione Dei condannati C'è Asintomatici Tra poco Ci vedo Pure Asintomatici Però fanno Le puzze Aprite i bacconi Asintomatici Fanno le puzze Che federe Quelli che non Vengono Se era Fottificato Tutto L'aslo Funzionava La sanità Funzionava Non c'era Bisogno Di chiudere Le scuole Le scuole Che chiudono E' Un Guero Grosso E' Un fallimento Totale Per tutti I bimmi Sanno a casa Non studiano Ma a scuola I gattini Sono in pericolo Perplessità